Musica Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo tutorial In questo tutorial vi spiegherò come velocizzare l'avvio del vostro computer che magari ci mette 20 anni ad avviarsi come faceva il mio Allora, questo metodo funziona solo per Windows ma funziona per tutte le versioni di Windows Quindi, clicchiamo su Start e su Windows 7 e Windows Vista e credo anche su Windows 8 c'è questa bar qui per cercare programmi e file Se avete Windows 7 e comunque avete questa barra qui dove potete cercare cerchiamo msconfig Apparirà questo e aprirete questo Dovete avere i privilegi di amministratore Infatti ve li chiede qui Perché se non siete amministratori del computer dovrà venire il vostro amministratore a dare il suo consenso e se ha una password deve mettere la sua password Quindi, per chi invece ha Windows XP Ok, aspetta Esegui Ecco Ci sarà questa icona Qui Ci sarà scritto Esegui Quindi, cliccandoci aprirà questo E voi dovrete cercare msconfig.exe msconfig.exe Non credo vi verrà fuori questa schermata ma potrebbe venirvi fuori il fatto che non siete amministratori se non lo siete altrimenti niente, tutto a posto Quindi, diamo i nostri permessi Allora, qui non dovete modificare niente Qui neanche perché è solo per gli esperti e comunque non serve Ecco Ok Questi due, servizi e avvio servono Su servizi potete scegliere i servizi che non vi servono da avviare Per esempio questo Hi-Rates Studios non mi serviva e l'ho tolto perché era un servizio di un gioco che ho fatto anche un video di aggiornamento su Tribe Session perché di sfondo c'era il gameplay Questo serviva a fare l'update ma non mi serve LogMe Namachi a me non serviva per niente perché non lo uso e mi fa schifo Amachi Servizio iPod non mi serviva perché non ho un iPod non so perché mi ha installato questa cosa la Apple ma vabbè forse perché ho messo come si chiama lì iTunes per sentire la musica In ogni caso se non volete qualche servizio lo dovete togliere però state attenti che il produttore non sia Microsoft Corporation perché sono tutti servizi di Windows che se togliete potrebbero rendere instabile il computer quindi magari ecco questo questo UMVPF service della Logitech io della Logitech ho la tassiera la tassiera e la webcam però non mi serve questo cosa qua perché deve essere un cioè una sorta di updater solo che mi vanno bene così le cose questo era VMware che era un programma per avere delle macchine virtuali in ogni caso non disabilitate quello di cui non sapete cos'è bene andiamo sull'interfaccia avvio qui si può modificare tutto quello che volete allora questo io li tengo questi due perché sono microsoft mouse and keyboard center questo mi serve perché ho il controller dell'xbox questo anche perché è praticamente un la cosa che uso per il desktop se vedete qua io posso cambiare schermata ecco per quello che vedete il mio desktop così pulito oh mamma aspetta aspettate un momento aspetta qua aspetta ecco così non vedete più niente in ogni caso disabilitate tutto quello che non vi serve come vedete qua guardate quante cose ho disabilitato magic disk che era una cosa di tipo daemon tools solo che non mi piaceva e ho scelto di usare daemon tools i on to desktop queste pubblicità pubblicità tutto pubblicità amaci che non mi serviva cioè disabilitando il servizio mi veniva lo stesso qui l'icona di amaci che però non mi serviva niente perché se non avevo il servizio attivo non mi funzionava amaci e poi non lo volevo guarda anche questo bella pubblicità questa pubblicità ed ecco qui un primo metodo per per rendere più veloce il vostro computer quindi facciamo applica facciamo ok e richiederà un riavvio per rendere le modifiche effettive io adesso non riavvio perché se no mi smette di registrire allora altro metodo è usare questo Ccleaner no allora come vedete qua avete tante belle rubine potete selezionare quello che volete eliminare e quello che volete mantenere quindi questo compatto database mi può servire informazioni moduli non spuntate quello di cui non siete sicuri questo password di rete se io non so cosa vuol dire quindi personalmente preferirei non spuntarlo perché magari mi incasina qualcosa e va bene ora facciamo un'analisi prima non direttamente la pulizia così vi faccio vedere come funziona quindi cliccando qui su analizza lui analizzerà tutti i file che ci sono dentro al computer che sono inutili e potrete anche vedere i singoli file che eliminerà con la pulizia con la pulizia con la pulizia nina 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 ok basta quindi adesso faccio un piccolo taglio e ci vediamo quando ha finito l'analisi eccoci qui ragazzi ha finito di fare l'analisi dice 40.556 mega 456 mega da rimuovere è una brutta cosa perché questi sono praticamente 40 giga non so se ci rendiamo bene conto lol quindi qua potete vedere cosa eliminerà facendo doppio click potrete vedere anche all'interno dei file ah giusto vi lascerò ovviamente il link per il download in descrizione di questo programma che è comunque gratis quindi non servono crack niente è gratis bene quindi ora che ha completato l'analisi non è per forza da fare tutte le volte che vogliamo pulire però cioè è per farci un'idea se vorreste fare una pulizia magari ci sono pochi mega cioè non so se vi conviene va bene ora avvio la pulizia e farò un bel taglietto fino alla fine perché la pulizia ci mette sempre di più dell'analisi anche se adesso è già 14% quindi niente perfetto ha rimosso questi 40.000 megabyte quindi vado su computer questo era un po' più avanti di qua e bene ora vabbè potete anche pulire il registro ma in questo momento è per velocizzare il computer non per fare pulizie varie quindi bene ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto ricordatevi di lasciare un bel mi piace un commento e iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video